Questa presentazione è stata trasmessa grazie agli amici del Ministero di Emesinfetz. Ci sono sempre più prove che il mistero della vita possa essere spiegato solo da qualche intervento intelligente e miracoloso. Ora più che mai, la scienza moderna conferma l'estrema complessità della vita. Con i microscopi del XXI secolo, per esempio, gli scienziati hanno capito che anche la cellula più semplice in effetti è una fabbrica virtuale che contiene migliaia di pezzi di macchinari molecolari progettati splendidamente, ben più complicati della stazione spaziale internazionale e funzionalmente complessi come una piccola città allora di punta. Se scaviamo a fondo nell'ambito cellulare, la scienza rivela un mondo virtuale lillipuziano così intricato che se oggi potesse vedere con un microscopio moderno, Darwin stesso ammetterebbe che la teoria dell'evoluzione è assurda. Nonostante le prove crescenti che solo un miracolo divino può produrre vita, il mondo moderno si rifiuta ancora di accettare il racconto della Bibbia secondo il quale Dio ha creato la vita all'improvviso parlando. Ed è quello stesso potere della sua parola che sta ricreando milioni di cuori nel mondo oggi. Quindi unitevi a me mentre guardiamo alcuni affascinanti fatti biblici sulle prove incredibili del progetto creativo di Dio. Ricordo di aver sentito una storia su un insegnante di arte di seconda elementare. Aveva detto ai suoi alunni, ora siete liberi di disegnare ciò che volete. Aveva dato loro i colori e avevano iniziato a dipingere. E lei passava da uno all'altro dando piccoli consigli e chiedendo quello che stavano facendo. Era arrivata questo ragazzino che era davvero impegnato, dipingeva furiosamente. Avete mai visto quando un bambino è impegnato? E la sua lingua era fuori dalla bocca e lei stava guardando quello che stava facendo e non riusciva a raccapezzarsi. E gli disse, cosa stai dipingendo? Lui rispose, sto dipingendo Dio. Gli disse, beh, nessuno sa com'è Dio. Le disse, esatto, ora lo sapranno. E il nostro messaggio di oggi parla di un tema molto importante. Si può provare che Dio esiste. Potete provarlo? Questa è la domandona. Questa è una delle cose più importanti di cui la gente abbia mai parlato. Ora, potreste aver sentito parlare del grande collisore di Hadroni. L'esperimento scientifico più grosso e più costoso al mondo si trova a 100 metri sottoterra nella campagna al confine tra Svizzera e Francia. E sono stato in quella zona prima d'ora. È un tunnel lungo 27 km. Hanno usato la stessa attrezzatura per perforare usata per costruire il tunnel tra la Francia e l'Inghilterra. È uno strumento ma è composto di un tunnel di 27 km in cerchio, riempito degli acceleratori elettromagnetici più potenti che gli scienziati possano concepire. È operato dall'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare. E lo scopo di tutto è cercare il mistero della più piccola parte della materia che tiene insieme il tutto. Si chiama, secondo il nome di alcune delle persone che l'hanno teorizzato, il bosone di Higgs. Il suo soprannome è, chi lo sa, la particella di Dio. Hanno costruito questo strumento multimiliardario per scoprire la particella di Dio. Beh, hanno condotto vari esperimenti tra il 2005 e il 2007 e dicono di credere di averla trovata. Con una precisione del 99% credono di aver scoperto la particella subatomica più piccola che permette a tutte le altre particelle dell'universo di stare insieme. E dicono, se non fosse per questa particella non esisterebbe nulla. E per questo la chiamano la particella di Dio. L'uomo cerca Dio nella materia più minuscola. Ma c'è Dio? Ora siamo in chiesa. Quindi, sapete, è una specie di domanda retorica qui. Crediamo che ci sia un Dio? E se è così, perché? Come lo provate? Ora, alcuni di voi forse hanno visto quel bellissimo documentario prodotto dalla BBC Nature di David Attenburg. Siccome spesso parla dell'evoluzione, alcuni hanno desunto che fosse ateo. Ma quando gli è stato chiesto se era ateo, ha detto, ovviamente no. E gli hanno detto, beh, sa, con tutto quello che dice sulla natura e sull'evoluzione, gli hanno detto, sta dicendo che crede in Dio? Ha risposto, beh, sto solo dicendo che sarebbe sciocco per me dirlo perché l'universo è così grande. E sto parafrasando. L'universo è così grande. E sono milioni di anni luce. Da una parte all'altra. Quello che vediamo è così poco. E abbiamo imparato così tanto negli ultimi anni. Per noi dire che sappiamo che non ci sia Dio con la piccola prospettiva sull'universo che abbiamo ora, sarebbe come se una formica in cima a una collina di termiti dicesse, ora capisco l'universo. Ho pensato che fosse una risposta umile e appropriata. Quindi potrebbe essere il motivo per cui la Bibbia dice, è lo sciocco che afferma che non ci sia Dio con certezza. Almeno dovremmo dire, beh, non lo sappiamo. O forse non lo so. O almeno ammettere che non ci crediamo o dire non voglio crederci. La Bibbia dice persino che, se volete usare la Bibbia, dice, potete guardare al di fuori della Bibbia per credere in Dio. Salmi 19,1. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Potete guardare e vedere le prove di Dio. Di recente, Eric Metaxas ha scritto un articolo coraggioso per il Wall Street Journal intitolato La scienza per ora l'idea che Dio esista. E ha elencato sette punti diversi in cui solo nel mondo naturale, attorno a noi, nel pianeta, nel sistema solare, vediamo le prove che ci deve essere un progetto o altrimenti non ci sarebbe vita sulla Terra. Primo punto. Il nostro pianeta è esattamente alla giusta distanza dal Sole in modo che le temperature sul nostro pianeta siano favorevoli alla vita. Se fossimo un pochino più vicini al Sole, bruceremmo. Non c'è vita sul Mercurio. Fa troppo caldo. Ci scioglieremmo. Se si va troppo lontano dal Sole, si diventa una palla di ghiaccio, come alcune delle lune di Giove. E siamo quindi esattamente alla giusta distanza in modo che gli oceani non evaporino e nemmeno ghiaccino. C'è un equilibrio molto preciso. Siamo alla distanza perfetta dalla nostra Luna. Ed essa ha un'orbita perfetta per creare le maree e la circolazione dell'aria per evitare che i mari stagnino. E molte piante animali si riproducono secondo l'orbita lunare. Se la Terra fosse un pochino più vicina alla Luna quando orbita intorno al pianeta, avremmo questa marea continua. Uno tsunami perpetuo che spazzerebbe via tutto. Ma è alla giusta distanza, in cui c'è un movimento gentile delle maree che fa circolare gli oceani e aiuta a creare il clima. Ed è semplicemente incredibile il delicato equilibrio che hanno i pianeti sulla Terra. Metaxas sostiene questo processo incredibilmente raro, bizzarro e inaspettato, visti tutti i fatti necessari che devono avvenire nella giusta coincidenza di circostanze, porta a pensare che almeno il nostro sistema solare debba essere stato progettato e calibrato specificamente per far sì che nascessimo noi. Altrimenti la probabilità che benissimo al mondo sarebbe così infinitesimamente piccola che è irragionevole credere che sia accaduto per caso. E non solo c'è un pianeta con un po' di vita, ma guardate come l'incredibile diversità di vita coesiste. Iniziate a fare i calcoli. Sto andando troppo avanti perché la matematica è una delle ragioni per cui anche il dottor Arno Penzias, ancora vivo oggi, vincitore del Nobel per la scoperta delle microonde, disse, l'astronomia ci porta a un evento unico, un universo che è stato creato dal nulla e delicatamente bilanciato per fornire esattamente le condizioni richieste per supportare la vita. In assenza di un incidente assurdo e improbabile, le osservazioni della scienza moderna sembrano suggerire, sottolineare, si potrebbe dire che c'è un piano soprannaturale. La scienza ce lo dice davvero, sapete? Penso sempre che sia divertente, se non fosse così triste, quando si vede un programma sulla natura diverso in cui si parla di madre natura come se avesse una mente. Guardate come madre natura ha progettato questo e quest'altro. E penso, la natura pensa, state dicendo che c'è qualcosa di pensato e pianificato. Chiaramente si parla di un progetto, ma si dice, non chiamatelo Dio. Qualsiasi cosa facciate, non chiamatelo Dio. Ma ovviamente voglio dire, pensate solo a come l'evoluzione può spiegare gli aspetti intricati del nostro corpo e a come ha iniziato un pezzetto di pelle attraverso l'esposizione alla luce, diventando poi un bulbo oculare. Anche Darwin ha detto che il bulbo oculare lo confondeva, non riusciva a trovare nessuno scenario, schema in cui si sarebbe potuto sviluppare. Ed è solo uno dei tanti, la biogenesi o informalmente l'idea che la vita derivi dalla materia inerte, come un semplice composto organico, non è mai stata osservata. Non c'è un solo, non importa quello che avete sentito, non c'è un solo caso in cui nel mondo osservabile si sia visto che la vita derivi dalla non vita. Non si può prendere un pezzo di roccia e piantarlo e avere una pianta di girasoli. Nemmeno un seme, non si può fare un seme, una cosa semplice. Ora, quando si è iniziato a insegnare quest'idea della generazione spontanea e l'idea della vita che nasce dalla non vita, si è guardata una cellula e si è detto, oh sai, sembra un pezzo di poltiglia. Guardavano con telescopi primitivi e tutto quello che videro fu quello che si vede in un uovo. Si vide che c'era questo muro, c'era un protoplasma, c'era un nucleo e si disse, forse potrebbe essere avvenuto da solo. Ma ora, con i super microscopi, si guarda una cellula e c'è praticamente una città virtuale di fabbriche e attività e reazioni chimiche che avvengono e tantissime macchine. Uso il termine macchine, sono biologiche, ma si muovono e nuotano e si danno la spinta e comunicano. Hanno un linguaggio in cui si parla alle altre macchine e si dice, ci serve un po' più di questo, no, a meno di quello. La cellula ha un'enorme attività al suo interno. L'idea che un fulmine possa aver colpito uno specchio d'acqua e sviluppato una di esse è oltre l'assurdo. La biologia delle piante e degli animali è un miracolo che chiarisce che c'è un progetto. Ci deve essere un creatore e siamo composti di miliardi di quelle piccolissime cose che si parlano l'un l'altra. E vi rendete conto che potete avere una sola cellula fertilizzata. Nell'istante dopo il concepimento avete una cellula di vita. Vi rendete conto che in quella cosina microscopica si dice, ci sarà Bill, avrà i capelli rossi, avrà gli occhi verdi, i denti saranno forti, il cuore sarà medio, sarà più o meno così e sarà più veloce di molti. Voglio dire, tutte queste informazioni interessanti e Bill avrà le lentigini, è tutto contenuto nel DNA di una singola cellula. Sono contenute tutte queste informazioni. Dio disse, produca la terra esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e fiere sulla terra secondo la loro specie. Vediamo l'evoluzione nel mondo? Sì, la microevoluzione. Darwin ha visto la microevoluzione. Ha visto i fringuelli delle Galapagos che avevano sviluppato becchi diversi per poter mangiare cibi diversi, ma tutti erano fringuelli. Non c'è un solo esempio che possiate vedere nel mondo di macroevoluzione, dove un gatto si trasforma in un alligatore. Perché sono specie diverse. Ci sono gatti piccoli e ci sono leoni. Sono tutti gatti. Capite cosa sto dicendo? Poi c'è la matematica. Ora, ammetto che sono un po' fuori dal mio campo perché non era la mia materia migliore a scuola. Ero bravo in storia, ma non così tanto in matematica. Ma ricordo Isaac Newton, che è considerato tra i più grandi matematici e fisici del XVII secolo. Altri fisici avevano cercato il suo aiuto per trovare equazioni matematiche che potessero aiutare a predire il corso del Sistema Solare. Egli scoprì le risposte nelle leggi matematiche e lo fece nella legge di gravità basata sulla scoperta del calcolo. Tutte le missioni spaziali dipendono dalla scienza del calcolo di Isaac Newton per predire come orbiteranno le navicelle e usano la forza di gravità di una certa massa per riportarle indietro. Sia che si tratti di un satellite come il Voyager 1 e 2, che ora hanno lasciato il nostro Sistema Solare, praticamente sono stati in grado di lanciarsi usando la forza di gravità dopo aver orbitato intorno a questi pianeti. O le missioni lunari che tornano sulla Terra. Tutte queste equazioni matematiche ci danno grande affidabilità nel dire questa è la legge. Ecco come funziona la legge. Non varia, non cambia. E voglio dire, per me la matematica profonda è quella che chiamiamo le tabelline. Ma funzionano ancora. Sette per sette. Questa me la ricordo perché serve per le profezie della Bibbia. Fa sempre 49. Sapete, è lo stesso in ogni lingua del mondo. Non importa quale sia la vostra cultura. Non importa la religione. Sette per sette fa 49. E quindi c'è davvero un grande interesse nella matematica per spiegare Dio. Perché la matematica è molto più profonda delle tabelline. Il tema è che le leggi matematiche, per essere propriamente affidabili, devono avere degli attributi che indicano un'origine in Dio. Sono vere ovunque. Questo significa che sono onnipresenti. Sono sempre vere. Sono eterne. Non possono essere modificate o sconfitte. Significa che sono onnipotenti. Sono razionali e hanno caratteristiche linguistiche. Questo le rende personali. Notate quello che ho appena detto. La matematica è onnipresente, onnipotente e eterna. È onnisciente. Ha una relazione personale. Sembra che esprima la mente di Dio. Albert Einstein disse che la cosa più incomprensibile dell'universo è che è comprensibile. Voglio dire, anche nella matematica che ha scritto Dio. Poi c'è il concetto di bene e male. In realtà questo è il punto in cui molte persone dicono non ci può essere un Dio. Dicono se ci fosse un Dio perché così tante persone innocenti soffrirebbero? Se Dio è onnipotente, onnisciente, perché c'è così tanto male nel mondo? E il male del mondo prova che Dio non esiste. E io dico no, in realtà il male prova che c'è un Dio, non che Dio sia il male. Ma il motivo per cui sappiamo che c'è il male è perché Dio è buono. Come possiamo sapere che una linea è storta se non sappiamo che c'è il concetto di dritto? Il motivo per cui siamo anche in grado di identificare il male è perché ci deve essere una definizione di bene. E qual è la definizione? Sapete, la Bibbia dice che Gesù ha detto solo Dio è buono. In realtà in inglese la parola God, Dio, si prende da good, buono. Quando dite a una persona good morning, buongiorno, originariamente era God morning. Dio giorno, perché Dio e buono erano sinonimi? Quindi, per protestare contro il male, una persona deve prima avere un'idea trascendente di ciò che è buono. In tutto il mondo, la gente concorda sul fatto che il male debba essere perseguito e punito. Anche gli atei concordano. Gran parte di loro. Perché? Se fosse la sopravvivenza del più adatto, allora cosa importerebbe? Perché ci sono il bene e il male? C'è uno scopo nella vita? Perché gli atei insegnano all'università? Che bene è la conoscenza? Dicono, oh, è bene essere informati. Perché? Come si può avere la definizione di bene e male a meno che non ci siano dei valori immorali, a meno che non ci sia un Dio? Capite cosa sto dicendo? Quindi tutto questo per tornare alla fine al fatto che c'è bisogno di un modello originale di morale, per il bene e il male. E questo indica che c'è un Dio, c'è un creatore. Due giorni fa stavo guidando per tornare a casa nell'ora di punta e a un semaforo mi sono imbattuto in un gruppo di oche. Ce n'erano probabilmente una decina. E ho tirato fuori la macchina fotografica e ho fatto questo scatto. C'era molto traffico. Vedete, ce n'erano tre. Una di loro non è nella foto. Tre oche adulte che stavano guidando probabilmente otto o dieci piccoli in mezzo al traffico molto intenso. Ora, a questo punto vedete che il semaforo è rosso. Il semaforo non era sempre rosso. E nonostante questo, cosa pensate che abbiano fatto le auto? Perché le auto si sono fermate e hanno lasciato attraversare queste stupide oche? L'evoluzione non insegna la sopravvivenza del più adatto? Non dovremmo provare che con le nostre auto siamo più intelligenti di loro e sapete farle estinguere? Perché hanno aspettato tutti? E scommetto che alcuni di loro erano atei. E hanno aspettato che le occhi attraversassero la strada. Perché sapete una cosa? Tutti hanno una specie di comprensione intrinseca interna. C'è una verità evidente che alcune cose siano giuste o sbagliate. E tutti sapevano intrinsecamente che sarebbe stato sbagliato far male a quelle creature innocenti. Soprattutto quando abbiamo visto i genitori mettere in pericolo la propria vita per cercare di far attraversare la strada ai loro piccoli. Winston Churchill disse, l'uomo occasionalmente inciampa nella verità, ma molti si rialzano e corrono via come se nulla fosse successo. Le prove ci sono se una persona vuole sapere c'è un Dio. E l'uomo, credo, ne sia un esempio. Che capolavoro, disse Shakespeare. Che capolavoro è l'uomo? Come è nobile nel ragionamento, con capacità infinite, come si esprime con forme e movimenti, come è mirabile nelle azioni come un angelo, nell'apprendimento quanto simile a Dio, la bellezza del mondo a paragone con gli animali. L'uomo pensa in astratto. Siamo in grado di memorizzare e comunicare, ora di registrare digitalmente. Siamo liberi agenti morali. Abbiamo personalità. Siamo praticamente imprevedibili, a differenza dei pesci rossi e delle formiche. Le persone sono così uniche perché la Bibbia dice, in Genesi 1, 26, Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Sicuramente l'uomo è la specie dominante sul pianeta. Potete vedere cosa ha fatto nei cieli. E abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la Terra e su tutti i rettili che strisciano sulla Terra. L'uomo ha imparato di più negli ultimi 200 anni. Non sapevamo dei microbi e delle microonde, delle onde radio, delle onde luminose e ci sono così tante cose che abbiamo imparato se ci pensiamo solo in questa generazione. Dio ci ha fatti per una relazione che è una prova di Dio e Dio vuole che abbiamo relazioni tra di noi. Geremia 31, 3, l'Eterno mi è apparso dicendo, sì, ti ho amata di un amore eterno, per questo ti ho attirata con benevolenza. Ma sapete qual è la prova migliore? È in Gesù. So che è un personaggio biblico, ma anche la storia. Ricorda Gesù. Lo troviamo nei registri storici. Nel nostro viaggio recente in Israele, la guida era un esperto di Giuseppe Flavio, che ha citato che Gesù è stato un personaggio reale, che è vissuto in un'epoca reale e che è stato crocifisso. Ora, se una persona non crede e pensa che siano solo bugie e che gli apostoli si siano riuniti e abbiano detto, ecco, vi facciamo una cosa. Creiamo una nostra religione. Forse la potremmo usare per fare soldi. E diciamo che questo tipo è davvero risorto dai morti e diciamo che ha fatto tutti questi miracoli. Inventiamo tutto. Sapete, se ci sono un po' di persone che sanno che c'è una cospirazione, non dura a lungo. Qualcuno spiffera. Qualcuno crolla. Ricordo di aver incontrato qualche anno fa Chuck Colson. Ha preso parte allo scandalo Watergate con Nixon. Era uno degli insider. E ci fu una cospirazione, lo hanno ammesso. E Colson, che era anche avvocato, andò in prigione per il suo crimine. Si convertì in prigione. E racconta come, non appena si resero conto, dissero tutti, staremo col presidente. Negheremo tutto. Ma non appena si resero conto che sarebbero andati in prigione e il procuratore generale iniziò a interrogarli. Non ci volle molto perché uno di loro dicesse, vi consegnerò gli altri se mi risparmiate. Erano così pronti a mentire e a dire la verità, qualsiasi cosa servisse per salvarsi la pelle. Finirono tutti per costituirsi e confessare. Ma gli apostoli non hanno mai cambiato la storia. Sono stati lapidati, sono stati picchiati, sono andati in paesi stranieri, sono stati torturati, sono scampati alle torture e hanno continuato a dire le stesse cose che Gesù era il figlio di Dio, persino al punto di essere decapitati come Paolo o crocifissi come Pietro. Se fosse stata una storia inventata, tutte le prove avrebbero detto, wow, è il trucco migliore che sia mai stato tirato alla civiltà. Sono riusciti a tener botta. Tutti hanno messo la loro vita per dire, siamo stati testimoni di queste cose. E il modo in cui Giovanni conclude la Bibbia dice, io Giovanni ho visto, queste cose sono vere. Quindi se credete alla Bibbia, non ci sono dubbi. Ma persino se volete solo guardare la storia, Cristo ha detto, le cose che insegno non saranno mai dimenticate, andranno in tutto il mondo. Come lo sapeva? Era un falegname, non istruito. È successo, no? Quindi, in Cristo, l'idea che qualcuno vivesse una vita perfetta, senza peccato e che mostrasse così tanto amore è una prova ulteriore che Dio è un Dio vivente. E quindi, amici, vorrei sottoporvi che, sapete, vorrei chiudere davvero con un versetto. O Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Prima che i monti fossero nati e che Tu avessi formato la terra e il mondo, anzi da sempre e per sempre, Tu sei Dio. Dio è eterno. Amen, amici.